Per cominciare questo passo sulla realtà dell'accontentarsi vorrei porvi davanti agli occhi l'immagine di un ring perché si confrontano due visioni che apparentemente sono inconciliabili lo faccio così un po' perché dovevo girarla è per quella si è offesa che non l'ho girata ci sono due visioni diciamo inconciliabili che si scontrano lo faccio con due canzoni due cantanti la prima non è forse nota ai più dove qualcuno muore di lamentele stenti qualcuno ingrassa e si accarezza il ventre questa è una canzone cantata da Giovanni Lindo Ferretti si chiama casi difficili dove qualcuno muore di lamentele stenti qualcun altro ingrassa e si accarezza il ventre mentre più famosa è la canzone di Ligabue chi si accontenta gode così così ecco questa è più le pubblicità spessissimo compare questa sorta di invito a non accontentare non accontentarti tu sei speciale tu non hai diritto non accontentarti mai e ho trovato questa frase sempre così nel mondo nel web che mi sembra veramente per la sua aggressività capace di sintetizzare un po' il punto chi si accontenta gode l'ha detto uno che nella vita ha saputo solo raccogliere ciò che gli è caduto dal cielo che non si è spinto mai oltre il sentiero che non ha realizzato il suo sogno e nemmeno ci ha provato è più facile accontentarsi che vivere per realizzarsi chi si accontenta gode è la filosofia dei finti soddisfatti degli infelici camuffati dei depressi sorridenti e dei falliti pseudo ignari di notte si sogna e di giorno si combatte non c'è altro da fare chi si accontenta muore applauso bravo questa mi sembra molto dal punto di vista insomma nel sentire questa sembra la frase vincente allora nel dover fare un pochettino ordine in questa ring in cui si confrontano chi si accontenta gode e chi si accontenta muore rappresentate dalle due canzoni che ho citato all'inizio mi è venuto in aiuto dico da verità inaspettatamente perché è la prima volta che lo cito in maniera positiva Vito Mancuso nel senso ho trovato un articolo ho visto qualcuno ecco dico ai più stupiti che rimango cattolico ogni cosa chiunque ogni verità chiunque la dica viene dallo Spirito Santo quindi niente in un suo articolo lui pone proprio parte da una riflessione di tipo dell'etimologia della parola accontentarsi che rapporto c'è tra essere quindi ho messo insieme quello che dice Vito Mancuso è un sito che conosco che mi piace molto perché affronta analizza l'etimologia delle parole mettendole insieme si fa un passo in avanti nella riflessione che rapporto c'è tra essere contento e l'accontentarsi perché nell'accezione comune queste sono considerazioni di Mancuso essere contento significa avere vinto avere vinto invece dietro l'accontentarsi sembra esserci sempre una mancata vittoria una non piena realizzazione del desiderio che non del tutto o per nulla contento mestamente si accontenta quindi contento è chi vince chi non vince al massimo si accontenta però l'etimologia e poi anche esplorandola effettivamente va in una direzione esattamente contraria rispetto a quella del linguaggio ordinario rispetto a quella che noi abbiamo visto anche nella frase iniziale perché accontentare accontentare è formato da una A iniziale che in questo caso è rafforzativa e poi c'è contento che latino contentus è il participio passato del verbo continere contentus continere contenuto quindi pienamente contenuto l'etimologia ce lo fa inquadrare come affina contenere accontentarsi allora non vuol dire questo è molto importante rovesciare soddisfazioni in un nostro abisso insaziabile ma essere riempiti fino all'orlo della propria misura della propria capacità cioè essere veramente pieni della tua misura il nostro contenitore che pienamente contiene il massimo della letizia possibile per noi effettivamente questa è un'altra considerazione lascio la parte etimologica e ritorno a Vito Mancuso senza limiti alla brama dice lui non può esistere la felicità cosa eccita la bella la strega specchio specchio delle mie brame chi è la più bella del reale cosa avviene in balia delle nostre brame vabbè la conclusione è evidente cioè quando c'è questa specie di contenitore infinito dove tu butti dentro continue soddisfazioni avviene che ottenuto l'oggetto la persona il traguardo bramato subito vediamo un'altra cosa un'altra persona e non si è più contenti di quello che si ha ma ci si sente assalire da un'inquietudine incontinente che ben lungi da farci accontentare di quello che si ha inizia a farci desiderare le novità che non abbiamo e così si può passare tutta la vita mai accontentati quindi mai realmente contenti mai riempiti ma sempre cercando in questa illusione di darsi continue soddisfazioni quindi potremmo dire che il passo fatto anni fa sul limite lo scorso passo sul controllo e questo sull'accontentarsi potrebbero essere studiati e visti insieme ascoltati insieme mi permette in questo senso una piccola considerazione proprio fuori tema cioè il senso questo incontro dei cinque passi è una delle manifestazioni dell'oratorio grande l'oratorio grande è una realtà che è offerta veramente a tutti alla città di Roma quindi io mi immagino potenzialmente che la maggior parte delle persone continua i loro cammini nei loro parrocchie nei loro gruppi nei loro movimenti nei loro associazioni ma utilizzano i cinque passi e la riflessione dei cinque passi per poi continuare per strutturare il loro cammino quindi magari dei gruppi giovanili parrocchiali che vengono partecipano all'incontro e poi continuano la loro riflessione la loro preghiera partendo dall'incontro chiuso parentesi come si può superare questa contrapposizione diciamo da ring come ho detto con la saggezza umana con un saggio uso della ragione partiamo da questo saggio uso della ragione sapete che io ritengo che il saggio uso della ragione sia qualcosa che ci permette di dialogare veramente con tutti e di iniziare un confronto con tutti allora cito una frase che Van Gogh presa da padre Millet che Van Gogh scrive al fratello Theo dice così penso abbia ragione padre Millet quando dice mi sembra assurdo che gli uomini vogliano sembrare un'altra cosa rispetto a quello che sono sembra un detto comune eppure fintamente profondo come l'oceano e ritengo personalmente che si farebbe bene a prenderlo a cuore una lettera scritta il 21 luglio giorno in cui è nato San Filippo Neri 1882 cioè la prima riflessione razionale è che occorrerebbe accontentarsi della propria godendo quindi pienamente della propria unicità questo mi direbbe la ragione rinunciare alla stolta smania quindi l'atteggiamento di chi vuole fondamentalmente riempire un abisso di soddisfazioni non sta alla propria misura ecco rinunciare alla stolta smania alla brama idiota di essere qualcun altro rispetto a quello che tu sei eppure quanto tempo noi perdiamo a voler essere qualcos'altro rispetto a chi siamo profondamente una seconda considerazione è più se volete da chi cammina in montagna più scautistica ecco quel godimento però sempre che la ragione senza bisogno di passare ancora senza la rivelazione senza la fede il godimento per il bagaglio leggero funzionale a ogni tipo di viaggio cantava la canzone vince chi molla dello scorso passo di d'incolofabi cioè per godere il piacere unico per godere il piacere unico di camminare a lungo per ore con le proprie gambe occorre accontentarsi e rinunciare a uno zaino pesante certe esperienze non le puoi fare con uno zaino pesante io conosco una vera professionista della realizzazione di uno zaino cioè qualcuno che riesce incredibilmente in un piccolissimo zaino a far e c'è l'ambizione proprio di mettere esclusivamente l'essenziale e con questo fare una settimana di root con quello che sta dentro a quello zaino tutto quello che serve questa leggerezza questa essenzialità non è un accontentarsi ma è un accontentarsi che ti riempie di godimento di gioia e allora vado avanti e ringrazio un amico che mi ha mandato un'email Danilo con una citazione un po' colpa aulica però prese dalle dalle georgiche nel quarto libro delle georgiche Virgilio descrive della vita delle api e ne ammira l'organizzazione ma poi fa un racconta questa cosa si dice che per affrontare la tempesta cioè quando inizia a esserci il temporale la tempesta le api come le navi che si zavorrano per evitare di essere portate via dal mare grosso così le api portano un piccolo sassolino cioè proprio un frammento di pietrolina che le zavorra e che le permette di non voler non so se poi dal punto di vista zoologico Virgilio perché a volte questi prendono delle l'immagine però molto bella a prescindere lasciamo stare perché poi gli sarà subito via ma questa non è vera perché ho visto un documentario non lo so se Virgilio sapeva qualcosa delle api tipo Francesco di Salf ha degli esempi sugli animali sballatissimi cioè quindi anche se era un dottore della chiesa dice così se però incompe la pioggia evitano di allontanarsi troppo dalle case non si fidano del cielo se rompe il vento ma vanno sotto l'acqua vicino alla città protette dalle mura tentano brevi sortite e a volte come si zavorrano le barche in preda ai flutti portano con sé piccoli sassi per reggersi in volo tra le nubi leggere e diceva Danilo ma non è forse essenziale sapere qual è il sassolino a cui decidiamo di abbracciarci nelle difficoltà della vita io credo caro padre Maurizio che sapersi concentrare sull'essenziale sì esattamente il contrario di una certa mestizia rassegnata con la quale la mentalità mondana specialmente oggi vorrebbe descrivere la scelta di una vita sobria c'è sì una componente passiva nel sapersi accontentare ma credo sia molto importante per una vita buona la nostra scelta di sapere come orientare il timone quando il vento alza le onde quando il vento alza le onde qual è quell'essenzialità sobria che ti permette di non essere portato via perché ancora una volta non ci si può caricare di tutto ed è vero che quando uno è abituato a caricarsi di tutto di troppo poi quando arrivano le burrasche della vita si trova molto più spaesato il famoso detto che quando uno si abitua a dormire per terra non rischia di cadere dal letto ecco diciamo sì ma ancora più intenso un altro riferimento letterario ancora più forte sto leggendo a me sono più che a metà questo libro di Franz Werfel i 40 giorni del Musa Dag è un libro sul genocidio degli armeni e però mentre questo genocidio è stato terribile perché sono stati obbligati gli armeni a iniziare delle lunghe marce verso il nulla quindi semplicemente andavano in luoghi completamente deserti e morivano ai lati delle strade alla merce di chiunque volesse approfittarsi quindi immaginate i più fragili le donne quante violenze e poi man mano che morivano non c'era venivano incalzati dovevano lasciare lì morire lasciando i loro cari alla merce quindi erano partiti dai loro villaggi con un po' di cose e poi finite le scorte non avevano più nulla quindi iniziamo queste lunghe marce della morte racconta il libro una forma di resistenza non l'ho ancora visto finito non so come andrà a finire i 40 giorni Musadag è una montagna quindi questi salgono in questa montagna maestosa che la gente di quel posto conosce a memoria in tutte le sue balze i suoi nascondigli e quindi chiaramente possono allestire una difesa che costituisce nella mia lettura i turchi sono già stati sconfitti due volte ed essendo un popolo di combattenti l'idea che questi commercianti armeni questi borghesucci abbiano inflitto due sconfitte al grande esercito turco viene vissuto male ma la considerazione che vorrei fare il protagonista si chiama Gabriel Bagradian Bagradian rimane due giorni e due notti su questa montagna la moglie si chiama Juliet già la prima sera mandò messi a Juliet perché non lo aspettasse c'erano parecchi ragioni che lo costringevano a indugiare così a lungo e senza interruzione sul dorso della montagna sta guardandola per la prima volta in un modo diverso non è più la montagna delle piacevoli passeggiate oziose del guardare ma no la sta guardando con lo sguardo di un luogo di difesa ok quindi il suo sguardo è completamente cambiato a un tratto questa montagna impronunciabile Damlaic spero di non era più l'Alpe idillica malgrado tutte le asperità che Gabriel conosceva dalle sue scorribande prima trassognate e poi strategiche per la prima volta gli mostrava il suo volto vero nudo tutto a questo mondo a questo mondo non soltanto l'uomo mostra il suo vero volto solo quando gli si chiede qualcosa cioè tu scopri il vero volto di qualcuno di qualcosa quando gli chiedi qualcosa in quel momento capisci veramente chi è ma va avanti e è qualcosa che ci è cambiato in lui cioè a forza di fare queste grandi camminate giorno e notte giorno e notte una considerazione sul cambiamento del suo corpo tuttavia sentiva in sé un'efficienza fisica di cui non si era ancora reso conto in vita sua anche il suo corpo solo ora che gli si chiedevano energie senza riguardi mostrava quello che era e quello che era in grado di fare in confronto le settimane di guerra vissute sul fronte dei balcani gli apparivano grigie e fiacche allora era fanghiglia umana che o veniva sospinta in avanti da qualche forza naturale sotto l'incombere della morte o si riversava indietro sotto l'incombere della morte senza impulso proprio negli ultimi anni Gabriel aveva sofferto spesso disturbi di cuore di stomaco ora questi attacchi di una coscienza fisica viziata dalle mollezze erano come soffiati via dal vento della necessità Gabriel non sapeva più di avere un cuore e uno stomaco non faceva il caso al fatto che tre ore di sonno sopra o sotto una coperta gli erano più che sufficienti che un panino e un po' di conserva lo saziavano per tutta la giornata se anche non rifletteva molto a tutto ciò questa dimostrazione spontanea delle sue forze lo riempiva di felice orgoglio era l'orgoglio che infiamma ogni volta la nostra materia solo quando lo spirito le ha inflitto una sconfitta quando tu hai una missione qualche cosa da fare e vedi che la materia al tuo corpo è sconfitto da questa da questa intenzionalità da questo progetto da questa necessità estrema dalla quale dipende la vita tua e la vita soprattutto degli indifesi dei poveri di tuoi figli di tua moglie allora lì non senti più la fame non senti più niente e il tuo corpo è trasformato perché io ho letto questa cosa che potrebbe sembrare non centrare cioè a volte l'essenzialità è imposta dalle situazioni e questa necessità questa essenzialità che ci è imposta dalla necessità delle situazioni ci regala l'inaspettato godimento della pienezza della nostra misura cioè ci permette di renderci conto che siamo veramente il protagonista di questo libro si rende conto che aveva molta più forza molte più energie fisiche di quello che si aspettasse e che aveva una capacità di rinuncia e fondamentalmente di accontentarsi di molto 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 che il suo essenziale il sassolino a cui attaccarsi era molto 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 più piccolo di quello che lui immaginava prima che le necessità esterne l'obbligassero cioè quando si mette un qualcosa di veramente di chiamatelo una missione un progetto spirituale in questo caso siamo ancora in un ambito laico questo ti permette di accontentarti di tante cose e di scoprire così l'essenziale cioè scoprendo l'essenziale che accontenti solo dell'essenziale e lasci perdere ciò che è superfluo concludo a livello diciamo sono tutti gli esempi che sto facendo immaginando il confronto perché questo è un altro degli aspetti dei cinque passi cioè un dialogo con le persone più lontane cioè basato esclusivamente e anche quelle persone sulla ragione e anche quelle persone lontane che volessero poi capire di più il modo di pensare di un credente ultimo riferimento diciamo questa volta è cinematografico un film che ho visto da poco Perfect Days da un film di Wim Wenders e racconta la storia considerate i giorni perfetti di questo Irayama è un è un uomo giapponese addetto alle pulizie delle toilette pubbliche di Tokyo cioè lui è pagato per pulire i gabinetti di Tokyo e è completamente si vede pagato da una vita solitaria da Monaco effettivamente mi è stato fatto notare sempre identica a se stessa però con tutta una capacità di godere di cose effettivamente spirituali molto profonde lui ha una passione per la lettura ha tutta una sua libreria di libri comprati e letti comprati e letti una meravigliosa collezione di cassette con tastro che di musica che gli piace proprio ascoltare è appassionato di fotografia e quindi di una fotografia particolare giapponese la fotografia della luce tra le foglie perché con questa visione molto poetica giapponese poetica ma reale che la luce le foglie muovendosi non mai un istante uguale all'altro quindi ogni volta e quindi lui fa queste fotografie e si vede anche nel film varie cose che a un certo punto una nipote in rotta con i suoi genitori si rintana a casa dello zio e sta bene con il suo zio è uno che finito questo lavoro che fa con una scrupolosità una dedizione completa assoluta addirittura inventandosi degli strumenti per pulire gli interstizi dei bagni pubblici c'è della gente che rivedi che arriva proprio al bagno e lui gentilmente la lascia entrare e poi riprende il suo lavoro e lo fa con una professionalità e una cura beh dice Wim Wenders c'è tanta felicità c'è tanta gioia nell'esistenza di Irayama credo che vedendolo parecchi lo invidino un po' io effettivamente guardando questo film non è la parola invidia quella giusta ma mi è venuta una grande voglia un po' di svuotare la camera una grande voglia di essenzialità una grande voglia di il fascino dell'essenziale il fascino del sassolino che è il fascino della sobrietà rafforzato da letture come quella che vi ho fatto prima cioè di rendersi conto che quando ci sono delle cose importanti veramente nella vita tante cose sono inessenziali quindi non è una questione di accontentarsi per accontentarsi come se fosse una ideologia come fosse buono accontentarsi ma quando è qualcosa di più grande nella vita quando tu fondamentalmente nella vita pensi che una cultura letteraria sia più importante una buona musica capacità di relazioni su questo magari lui aveva anche delle problemi relazionali in altri però ad esempio uno che ha una vita scusatemi che per me è veramente da godimento di un rutinario stupendo cioè ogni giorno le stesse cose le stesse azioni lo stesso bar il stesso luogo lui arriva dopo che si toglie i vestiti da lavoro va nel bagno pubblico si lava si mette in questa specie di bagno pubblico di sauna rimane lì proprio si vede proprio soddisfatto poi va sempre allo stesso ristorante ristorante lo conoscono già e gli dicono sempre la stessa frase ecco le abbiamo un buon pasto dopo una dura giornata di lavoro e lui sorride eccetera ma in questa ripetitività apparentemente sempre identica è un uomo che si accorge delle increspature dei cambiamenti delle novità e non è una persona tutt'altro che superficiale si intuisce che ha dei sentimenti e poi mi permettete in questo mondo appunto dove io per primo si parla si parla si parla un uomo meravigliosamente silenzioso dove ci si può capire anche senza troppe parole senza troppi bla 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 però un film che mi è piaciuto se non so se si è capito dice Will Wenders però per me Will Wenders è una garanzia perché ha una poeticità una perché vi faccio questi esempi perché per affrontare questo argomento qualcuno può pensare che io sia un po' troppo laico ma io non lo faccio per posa è che mi sembra a mio avviso che se noi non ci abituiamo ad avere delle passioni condivisibili con chiunque io troverò qualcuno che magari si definisce ateo ma è innamorato di Will Wenders e possiamo posare tutta la sera a discutere sui film di Will Wenders non è obbligatorio che sia Will Wenders però magari qualcuno che è appassionato di non so della vicenda storica degli armeni e sono due o magari l'esempio delle gio cioè non è fatto in modo strumentale ma io penso che quello che che ci accomuna a livello proprio di utilizzo della ragione con la maggior parte degli uomini è un terreno preparatorio per l'annuncio del Vangelo che non può essere calato dall'alto come una fiamma di fuoco che rischia di essere respinta gli chiedono lei dunque a un certo punto ha buttato i suoi nastri chiedono a Will Wenders sì proprio durante la pandemia ho traslocato in un posto meno spazioso mi sono dovuto sbarazzare di un sacco di roba e non è stato semplice per tutta la vita sono stato un collezionista ho raccolto dischi libri pietre macchine fotografiche scaffali su scaffali disfarmi della maggior parte degli oggetti è stato un bene lasciarli andare è stato pacificante cioè non avete anche voi l'impressione che in nostri armadi ci sia troppa roba non vi viene ogni tanto la voglia di accontentarvi di un piccolo numero di camice di quelle cose che usi e di non avere questa cioè non riesci a resistere alla cosa di ingolfarti e di riempirti di cose però in un certo senso tirattrista e quando vedi qualcuno che vive ho visto gente che si è messa a piangere in certe mostre vedendo gli scarponi di una persona che erano quelle la sua calzatura ed è stata quella tutta la vita pensare che ha camminato con quelle scarpe questo è quello che direi a livello così di saggezza umana ma Gesù dai vediamo Gesù Gesù che dice cioè su questo argomento Gesù dice qualcosa bene dal punto di vista dei beni materiali delle ricchezze vabbè bisogna essere proprio in cattiva fede per non dire che siamo assolutamente allineati più con l'uomo delle pulizie dei gabinetti pubblici giapponesi che altro tanto che parto da un punto forse inaspettato Gesù a un certo punto fa un complimento incredibile al suo cugino Giovanni il Battista e gli dice guardate tra i nati di donna non ce n'è uno più grande di Giovanni il Battista ok Gesù conferma che il battesimo di Giovanni il Battista viene da Dio siete d'accordo a livello adesso parlo con i credenti che sono qui con me siete d'accordo che è questo bene ma che cosa diceva nella sua predicazione Giovanni il Battista noi alcune parole le sappiamo le folle le folle lo interrogavano che cosa dobbiamo fare rispondeva chi ha due tuniche ne dia una chi non ne ha chi ha da mangiare faccia altrettanto cioè sì accontenti secondo me non so se siete d'accordo vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare gli chiesero maestro che cosa dobbiamo fare ed egli disse loro non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato erano quelli che raccoglievano le imposte lo stato romano ti chiede venti tu raccogli i venti e dagli i venti cioè accontentati lo interrogavano anche alcuni soldati e noi che cosa dobbiamo fare rispose loro non maltrattate e non ne storcete niente a nessuno accontentatevi delle vostre paghe mi sembra evidente sempre il Vangelo di Luca fate attenzione tenetevi lontani da ogni cupidigia per anche anche se uno ha nell'abbondanza la sua vita non dipende da ciò che egli possiede e allora fa l'esempio e il racconto di che cosa sia la cupidigia ve lo ricordate quel racconto di quello che dice adesso non ho più dove mettere la cosa nei miei magazzini ho avuto un'idea lo butto giù ne costruisco di nuovi più grandi poi è e Dio gli disse stolto questa nostra te stessa ti sarà chiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà questo mi fa pensare agli amici economisti con il loro mito della crescita inarrestabile cioè che la crescita deve essere come Irene la crescita economica è un dogma scusate ma cresce poi si scende non è normale che salga e scenda che possa frenare no non si può dire questo è essere negativi no la crescita economica deve essere sempre è impossibile semplicemente impossibile a un certo punto bisogna è un po' applicato all'economia quello che sono i sogni fantasiosi di questo uomo coi suoi magazzini ed è lì subito dopo che Gesù attacca quel discorso meraviglioso sull'essenzialità sulla sobrietà sulla fiducia nella divina provvidenza il discorso sui gigli dei campi io vi dico non preoccupatevi per la vita di quello che mangerete né per il corpo di quello che indosserete la vita infatti vale più del cibo il corpo più del vestito guardate i corvi non seminano non mietono non hanno dispense né granaio eppure Dio li nutre quanto più degli uccelli valete voi chi di voi per quanto si preoccupi può allungare anche di poco la propria vita se non potete fare neppure così poco perché vi preoccupate per il resto guardate come crescono i gigli non faticano e non filano eppure io vi dico neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro se dunque Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è domani si getta nel forno quanto più farà per voi gente di poca fede e voi non state a domandarvi che cosa mangerete che cosa berrete e non state in ansia di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo ma il padre vostro sa che ne avete bisogno ed è questa la ringa che viene la più importante di tutte cercate piuttosto il suo regno queste cose vi saranno date in aggiunta pensate non è che ti dice che non vengono date in aggiunta però è come se ti dicesse la missione capite l'accontentarsi cioè l'accontentarsi dell'essenziale scoprire qual è l'essenziale di cui accontentarsi è in funzione di una missione come nel se io devo difendere il mio popolo di 5.000 persone su una montagna scopro che certe cose non sono essenziali e scopro che il mio corpo è più forte di quello che è se Gesù mi dà la missione cioè occupati del regno di Dio è questa missione per un cristiano che ti dà la proporzione su cosa è essenziale e su cosa è inessenziale si capisce? è questa che ti dice in che senso mi devo accontentare mi accontento non procuratevi lo dice ai suoi dodici né oro né argento nelle vostre cinture né sacca di avaggio né due tunichi né sandali né bastone perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento entrando nella casa rivolgetele saluto se quella casa ne è degna la vostra pace scenda su di essa ma se non ne è degna la vostra pace ritorna in voi cioè di fronte alla pienezza capite la contentezza cioè della pace di Dio che riempie in modo completo la tua misura sei un contenitore e sei ti accontenti cioè sei pienamente riempito dalla pace di Dio sei pienamente riempito dalla missione che Dio ti dà allora se sei pienamente riempito da questa pace di Dio scopri così che le altre cose non sono così essenziali pur sapendo il Padre che ne hai bisogno e dandotele anche in aggiunta perché sa che ne hai bisogno effettivamente il godimento in noi della pace divina l'essere totalmente colmati dalla pace di Dio ha come necessità una reale sobrietà una reale essenzialità esistenziale il pane del Padre nostro è quotidiano anche le pene sono quotidiane pane e pene sono quotidiane accontentiamoci non preoccupatevi dunque del domani perché il domani si preoccuperà di se stesso a ciascun giorno basta la sua pena cioè ti dice Gesù senti ti accontenti della pena di oggi perché vuoi programmare le pene future accontentati del pane quotidiano pane quotidiano pena quotidiana cioè non vuole accontentati cioè noi dovremmo accontentarci anche di quella pena accontentarci cioè c'è una misura quotidiana di quella giornata lì che quando è piena è piena è indisponibile noi vorremmo invece avere non solo mi sembra di poter dire che il comando del perdono dell'amitezza dell'umiltà spinge ad accontentarsi di quello che le persone possono donarti oggi cioè le persone ti possono donare accontentati di quello che le persone ti possono donare oggi non sarai mai contento se non ti accontenti non godrai mai se non ti accontenti di quello che le persone possono darti oggi e subito la sentite la polemica subito subito sentitene quindi non pretendere mai dalle persone accogli quello che ti possono dare dunque quindi non bisogna mai stimolare qualcuno la sentite la sentite dunque quindi è sbagliato stimolare qualcuno non è sbagliato stimolare qualcuno non è sbagliato naturalmente però ci sono delle condizioni se le puoi rispettare stimolalo solo quando è fatto senza disperazione senza rabbia nella pace magari con sofferenza ma senza fretta senza impazienza senza tristezza senza amarezza senza presunzione allora stimolalo stimolalo pure perché voler stimolare uno arrabbiati in modo impaziente con fretta con tristezza con amarezza e peggio ancora non è uno stimolo è un affossamento stai pretendendo qualcosa che quella persona tanto non te la può dare non soffocarla non strangolarla accontentati della persona così com'è nella sua povertà che non ha da restituirti probabilmente accontentarti di quello che puoi capire fratelli e sorelle ce lo diciamo una volta per tutte ma nella maggior parte della cosa noi non ci capiamo niente io mi rendo conto che nel nel a parte qualcuno che ci sono saranno milioni di persone che capiscono di più però per avendo studiato avendo letto certe cose non è che mi sento in una fettina stretta rispetto al ecco bene io mi sento sinceramente ma non è una posa ogni volta che scopro un argomento mi viene da starmene zitto perché non so niente non so niente di quasi nulla e c'è piede accontentarti di quello che capisco di quello che so accontentarmi di qualche informazione scusate se torno su alcuni temi ma è veramente necessario a ogni alito avere una notifica di notizie di tutte le parti del mondo che non capisci niente non sai valutare non sai cosa vuol dire non sai cosa succedendo e non serve esattamente precisamente totalmente a nulla a nulla perché o hai il tempo qualcosina di capire di approfondire ma tanto sei tu limitato hai una misura c'è una misura umana una capacità che non può andare volte eppure ecco allora voi dite potrebbe eppure io qua a questo punto vado da un'altra parte perché noi siamo contemporaneamente finiti finiti come capacità di attenzione però siamo anche infiniti noi tutti abbiamo un desiderio infinito noi comunque non riusciamo c'è qualcosa anche in questo riempirci continuamente che dice qualcosa della nostra grandezza cioè a noi non ci basta mai nulla di finito nulla di mortale cioè qualunque cosa noi la vogliamo tutti come quando però qualcosa vorrà dire questa natura così insaziabile cioè quello che vi sto proponendo non è una forma di stoicismo una forma di accontentarsi con una buona norm perché 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 è bello perché esteticamente è bello perché è buono perché noi la nostra natura è incontentabile siamo fatti male se volete siamo fatti in un modo tale che noi non riusciamo a accontentarci questa cosa qua spiegata benissimo Benedetto XVI quando non era quando era Cardinal Ratzinger in introduzione al cristianesimo vi leggo pochissime righe nelle affermazioni etiche del Nuovo Testamento c'è una tensione che sembra insormontabile tra grazia e etos cioè e comportamento grazia e quello che tu puoi fare con la tua forza di volontà tra un totale senso di inutilità e un altrettanto totale sentirsi sotto pressione tra una completa passività tipica di chi riceve tutto gratuitamente perché non è in grado di fare nulla e contemporaneamente una totale doversi spendere fino all'inaudita richiesta di Gesù siate dunque perfetti come perfetto il Padre vostro celeste ti dice senza di me non potete fare nulla ma poi ti dice siate perfetti come Dio ti dice senza di me siete voi siete cattivi siete cattivi che sanno dare cose buone ai vostri figli senza di me però ti dice amatevi come io vi ho amato c'è questo poi radosso che però il nostro cuore al quale il nostro cuore consente cioè noi siamo effettivamente fatti per qualcosa di grande e quindi e quindi come si può mettere assieme questa cosa del contenuto pienamente pieno continuere contentus accontentarsi e però anche non volere rinunciare a questa tendenza inesorabile che c'è in noi di volerci riempire di tutto sapere tutto conoscere tutto abbracciare tutto amare tutto sentire tutto la sintesi è carina perché bisogna raccontentarsi di Gesù scoprire questa sovrabbondanza di Gesù e trovare la baldanza se tu scopri la sovrabbondanza di Gesù trovi la baldanza lo so che accontentarsi di Gesù è un'espressione una bella sintesi ma per qualcuno non basta può essere ispirativa per qualcuno però qualcuno vorrebbe una una descrizione che si ripeta che cosa implichi questo accontentarsi di Gesù condizioni sono effettivamente la sobrietà l'amore per il nascondimento il silenzio la renuncia tu non puoi accontentarti di Gesù senza tutte queste cose allora faccio degli esempi proprio così non è accontentarsi di Gesù andare a pregare con il telefono in mano diciamocelo almeno ogni tanto andare a pregare col telefono in mano significa che non ti stai accontentando di Gesù quando preghi preghi quando c'è una relazione con lui accontentati solo di lui quindi tutto il resto deve essere spento non si prega con il telefono non è accontentarsi di Gesù entrare nella propria camera parlo soprattutto i consacrati chiudendo la porta per aprire poi le fatidiche mille porte che si aprono non è accontentarsi di Gesù pensare a mulinello a pensare a mulinello senza mai fermare senza mai mortificare i propri pensieri cattivi significa accontentarsi di Gesù dire tu sai tutto per tutti solo come vuoi tu tu sai Gesù io con te voglio tutto per tutti solo come vuoi tu questo significa accontentarsi di Gesù io voglio veramente io sento di essere sincero in questa richiesta al di là della fatica che comporta delle tentazioni io voglio tutto per tutti come vuoi tu perché senza in questa potremmo dire cupidigia come la definisce San Paolo la cupidigia cioè questo quella che descriveva queste brame di cui parlava all'inizio dell'incontro di Tom Ancuso queste brame insaziabili la definisce idolatria cioè qualcosa che necessariamente fa a pugni con Dio cioè senza questo nascondimento questo silenzio questa rinuncia questa sobrietà senza appunto silenzio rinuncia per stare solo con Gesù e accontentarti di Gesù e basta le altre cose questa brama invece sempre di sapere questa brama di controllo questa brama di oggetti questa brama di affetti tutto quello che volete è idolatria cioè qualcosa che si contrappone a Dio dovremmo accontentarci di Dio se tu non ti accontenti di quella pienezza infinita che ti riempie continuamente Dio si che ti riempie infinitamente tu sei infinito anche se in abissalmente tutte le cose sei infinito ma sei talmente capace che tutte le cose ti lasciano sempre insoddisfatto tutte le persone ti lasciano soddisfatto Dio no se ti accontenti di Dio ti rende contento cioè ti accontenti nel senso che pienamente lui è in grado di riempirti altrimenti cercherai altrove se non sei pieno cerchi altrove o in una dipendenza o in una fuga o in qualche cos'altro sei solo Dio che se gusti Dio se la tua delizia è Dio come dicevamo oggi nella nella prima lettura e allora per capirci in un modo bellissimo profondo poetico vorrei leggervi un'ultima email che mi ha mandato perché questa permette di descrivere e di concludere in modo completo il ragionamento in un modo però bellissimo caro padre solo una piccola riflessione sulla parola gode e sul passo nulla di originale beh insomma non dire così non è vero nulla di originale cose sicuramente già dette se penso al godimento mi viene in mente la scena del film le ali della libertà in cui il protagonista siamo in carcere seduto per terra appoggiato al muro della terrazza guarda i carcerati che bevono la birra fredda che aveva procurato loro con il suo lavoro nel guardarli e nel suo sorriso lui non beve la birra perché lui non piace ma gode nel vedere gli altri che la bevono penso sia lo stesso godimento che per grazia ho saporato alla festa di San Filippo guardando le persone nel giardino che erano contente per un momento credo di aver avuto sul mio volto lo stesso sorriso beato di Tim Robbins raggiunto non senza fatica e tentazioni ogni volta invece che penso a me che cerco gratitudine per e in quello che faccio che sono importanti i numeri e non le persone mi rattristo e questo è un dato di fatto quindi per concludere allungherei la frase del titolo in gode chi per grazia riesce a dare con gioia e questo gli basta e di questo si accontenta la gioia il godimento è dare per grazia senza chiedere nulla in cambio questo ci rende veramente senza questo non c'è contentezza senza accontentarsi di questo senza essere riempiti a tal punto da Dio da diventare come Lui questo sguardo felice per la gioia degli altri fratelli e sorelle se tu guardando gli altri felici non ti accontenti di questa gioia che ti dà vedere gli altri felici allora puoi cercare quanto vuoi puoi arrabattarti puoi buttare dentro questo abisso delle tue brame qualsiasi cosa e sarai esattamente come la strega di Biancaneve specchio specchio delle mie brame chi è la più bella ti ingolfi ma non riesci mai a riempirti accontentarsi di Dio essere riempiti sempre perché si può essere sempre riempiti da Dio ti dà questa libertà interiore di chi può dare ed è felice di dare ed è contento di dare e in questo caso si accontenta di altre cose perché non sono assolutamente essenziali bene adesso come di consueto è un momento molto importante quello di confronto però è un confronto lasciato alla provvidenza nel senso che vengono distribuiti a voi dei fogli in bianco posso permettervi una cosa a me sono molto felice ormai stanno tornando i passi come partecipazione a una non è una questione di numeri però io so che questo momento dell'ascoltare le domande anche fatte dagli altri è molto bello molto importante a volte ci sono delle vere sorprese perché ci si confronta con cose che non avevi considerato vi verranno distribuiti quindi questi fogli in bianco con le penne potete scrivere una vostra domanda ma non perché io rispondo ma perché io mi posso confrontare con voi e lasciamo il buon Dio pescando a caso quella che è la domanda le domande ecco che vorrà quindi accompagnati da Elisa che con la musica ci permette di concentrarsi ciò di concentrarci meglio come posso godere dell'intimità di Dio quando nella mia vita ho sempre goduto dell'intimità fisica di molti uomini diciamo che non so com'è stata l'esperienza è stata soddisfacente deludente perché naturalmente stiamo parlando di due godimenti diversi ma il problema è che quando già dico così qualcuno può pensare che sia una forma di locuzione per dire che non sia un reale godimento quello di cui parlo quello di Dio è un amore fisico può darti quell'appagamento quell'appagamento di quello che è cioè di un po' di minuti un momento ma non è in grado di riempire e di dare quella pace quella pace divina che solo Dio può dare non ti può dare speranza nelle situazioni soprattutto non ti dà quella noi e qua si gioca una grande la nostra insoddisfazione è legata al fatto che noi abbiamo un cuore abbissalmente grande che può essere colmato riempito semplicemente da Dio non può essere messo in contrapposizione il godimento erotico con il godimento dell'intimità con Dio perché quel godimento erotico l'ha creato Dio l'ha inventato Dio è una realtà che viene da Dio quindi non ci può essere contrapposizione ma come avviene oggi banalizzare e ridurre semplicemente a questo livello erotico a volte neanche erotico solo genitale la grandezza umana i bisogni dell'essere umano le domande dell'essere umano beh una riduzione sì effettivamente molto alla page molto moderna molto diffusa ma abbiamo bisogno di ben altro dell'unione fisica in questo caso questa donna con tanti uomini quindi l'intimità con Dio è un'intimità che avviene nel silenzio nel raccoglimento ed è scoprire il senso stesso della tua esistenza e il senso stesso anche della tua missione di essere mandato ad amare spero di avere essere meno confrontato seriamente con questa domanda se mettere dentro un contenitore le nostre capacità ci protegge dalla brama di desiderare all'eccesso come spieghiamo allora la necessità alla quale ci invita Gesù di far fruttare i nostri talenti mi sembra che questa dei talenti è già uscita in altri casi io più che altro andrei nella direzione che ho toccato quando ho citato introduzione al cristianesimo la parola giusta è che in noi c'è un effettivo paradosso e che questo paradosso cioè siamo obiettivamente ragionevolmente finiti a un livello drammatico un numero di anni finito che questa clessidra ci ricorda continuamente che il tempo è Cronos che uccide i suoi figli e tutti siamo dentro a questa super clessidra e dentro a questo tritacarne se volete ed è oggettivo non si può fermare è ineluttabile però nello stesso tempo noi non possiamo fare altro quando ci percepiamo come indispensabile il centro dell'universo quando diciamo io lo diciamo come se ci fossi solo io e non che ognuno dice io con la stessa convinzione con cui ogni altro dice io io dico io ma madre Manuela dice io con la stessa convinzione o sbaglio cioè quando dici io e io e siamo tutti così fatti a immagine e sombiglianza di Dio quindi più che i talenti perché mi sembra sempre una riduzione perché quando parla dei talenti Gesù non sta parlando delle capacità umane diverse le caratteristiche naturali diverse tra persona a persona non sta parlando di quello i talenti sta parlando di un'altra cosa bisogna stare attenti a come si la banalizzazione della parola di Dio io però vado oltre vi dico quello che chiede Gesù quando ti dice siate perfetti come perfetto il padre mio che è nei cieli amatevi come io vi ho amato è un paradosso cioè ti dice chiaramente di amare come ama Dio è l'incontro classico di catechismo bambini di otto anni ve l'ho già detto già molte volte tu gli fai la domanda questo è un gioco quello che sto per fare è un cammeo che l'avete già vissuto mille volte però però siamo sempre lì ai bambini gli fai la domanda ai bambini otto anni si può amare come ama Dio risposta tutti in coro no va bene ok seconda domanda Gesù è bugiardo Gesù ha detto amatevi come io vi ho amato sì dopo il catechismo sanno e dicono sì quindi capite è un sillogismo cioè non so se oggi con i rintronamenti telefonici si capisce ancora però perché è impressionante è proprio oggi per alcuni è difficile capire un testo di poche righe che cosa dica se Gesù è sincero e ti chiede amatevi come io vi ho amato allora è possibile amare come ama Dio e questo se mi permettete altro che talenti questo è rispetto alle mie capacità amatorie che sono nulla costato ogni mattina che mi sveglio senza di me non potete fare nulla rimanete in me perché senza di me non potete fare nulla va rimanendo a ogni istante accontentandomi di Gesù a ogni istante la senti e la percepisci con potenza questa sua mandato unito a lui come un tralcio unito alla vita a darla la vita e a non prenderla essere più felice della felicità degli altri del dare piuttosto che prendere 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 ok ecco andrei in questa direzione qua caro padre il fatto è che non riesco ad accontentare nessuno quasi perché ma perché forse nessuno di noi è chiamato io sono chiamato ad accontentarvi no questa è la domanda ve la pongo così ma io devo accontentarvi è il mio la mia missione accontentarvi no è accontentar qualcuno la mia missione la nostra missione no la nostra missione è amare e allora anche qui cammeo ripetizione è come perché ripetizione di qualcosa che secondo me si può capire meglio amare è come essere non risolvere una soluzione un problema esistenziale a qualcuno amare è essere come una stufa di calore se fa molto freddo è come essere dissetante se fa molto caldo e c'è aridità quando tu chiedi a Dio signore uniscimi a te mi hai chiesto di amare come ami tu lo voglio ti chiedo solo questo che nella mia routine quotidiana che è legata alla mia stato di vita a quello che devo fare cioè capite la routine è già stabilita adesso c'è le domande rispondo alle domande poi finisce la clestidra faccio ancora qualche domanda poi cosa poi saluto le persone saluto le persone eccetera eccetera poi vado su e mi tolgo poi stasera vado a mangiare con i miei ma non è banale è la vita se non muoio prima questo più o meno sarà quello che succederà questi cosa sono cos'è questa cosa qui e tutti voi ce l'avete uguale siete d'accordo di cose diverse ma guarda non c'è tanta differenza perché uno è una cosa piuttosto che un'altra no oggi è sabato non è venerdì quindi si può mangiare la trippa si può mangiare la trippa stasera mangio la trippa penso perché non ho proprio voglia di mangiare ok va bene ma il concetto è questi sono i cinque panni e due pesci questa è l'ostia questa è la parte è quella quotidianità di vita che ciascuno ha ma la differenza è se io vivo da cristiano e chiedo che sia consacrata come viene consacrata l'ostia venga consacrata questa quotidianità che per qualcuno può essere capire che quando hai capito questo e la vita ti chiede di lavare i cessi a Tokyo lavi i cessi a Tokyo lo fai alla grande perché sei convinto che Dio consacrerà il tuo lavoro e da questa consacrazione entra come una forza in questo mondo l'amore di Dio quindi la gente io non mi metto mai nella posizione di accontentare le persone ma di obbedire a Gesù amatevi come io vi ho amato dare la vita e non prenderla nel tempo nello spazio nel luogo in cui sono è inutile ci sono dei posti dove sono avvenute delle cose terribili perché le nostre informazioni sono sempre a corrente alternata ci sono i poveri e poi quei poveri di cui ci si dimentica il corno carabano gli armeni di questa piccola zona sono stati tutti completamente spostati hanno dovuto lasciare la loro terra non si è neanche saputo non si sanno queste cose cosa posso fare io per queste persone io posso fare bene il passo che devo fare la catechesi rispondere a queste domande posso stare il più possibile metterci quindi vuol dire che la nostra virtù non conta cos'è la virtù allora è mettercela tutta a fare il meglio che posso come figlio questa sera con i miei genitori c'è anche la mia virtù di fare il tutto per per passare una serata bella per cosa per interessarci per sapere delle cose che non ci siamo ancora detti no la virtù c'è però più profonda è l'intenzione continua di una preghiera che c'è sempre è di vivere quello che vuole Gesù amare come ama Lui quindi non mi preoccupo se accontento i miei genitori cosa vuol dire se comincio a pensare ma li ho accontentati cioè ma diciamo applichiamo a me questa domanda ma li ho accontentati cioè certo che mi viene ma vi accontento ma voi dovete essere accontentati da me cioè voi volete essere amati da me non avete bisogno di me per essere capito solo per spiegare con un esempio concreto sono finito qui per lo stesso spasmodico atteggiamento bulimico di cui un po' parlavi e mi fa bene mi sembra che tutte le esperienze che colleziono così siano guidati da due forze una buona e una velenosa sto bene sono felice però al contempo depresso e gli altri mi vedono sempre stanco come se ne esce anche in questo voglio tutto tutto penso di aver capito grazie prima di tutto grazie perché questo dà anche l'impressione di quanto i passi non nascano solo per chi è già credente ma anche per chi viene per caso e anche per chi viene rispettoso e che vuole capirci qualcosa senza necessariamente essere credente io non ho una risposta diversa rispetto a quello che ho raccontato pochi minuti fa cioè il mio modo di vivere la vita è tutto così domani dovrò preparare le lezioni per lunedì finire di preparare l'omelia per domani sera incontrare una persona alle ore 11 avere una riunione alle ore 17 e fare le cose mettendoci quella forza di volontà che ci devo mettere dire il breviario celebrare la santa messa dire il santo rosario e adorare il signore in un momento in cui faccio solo quello fare colazione e pranzare e poi cenare domani sera e andare a dormire presto perché lunedì devo insegnare a scuola e devo preparare ancora le lezioni l'ho già detto cioè questo è cinque pani e due pesci l'ostia questa è l'ostia questa è l'ostia questa è l'ostia dell'offertorio e ognuno di voi ha la sua e se mi permettete io non me la sento di dire che la mia ostia cioè noi facciamo i gourmet di ostia valutiamo eh certo la tua ostia a me niente a ridere perché a me sembrano che sono tutte ostie io non vedo adesso non sto esagerando ma lo penso veramente quel film me lo fa pensare la routine di Irayama che lava i cessi cosa io mi vedevo l'ostia è ostia il pane è pane i cinque pani e due pesci sono cinque pani e due pesci per tutti è uno dei suoi mi sembra ridicolo invece gli uomini perché io rispetto non so quello che magari la sua routine è dover andare in giro per il mondo in uno yacht a incontrare persone e dire a me mi viene da vomitare sinceramente meglio pulire i cessi a Tokyo piuttosto che essere in un party esclusivo su uno yacht con pieno di modelle di ricchi eccetera eccetera mi viene veramente da vomitare mi ha sempre fatto vomitare già da quando ero ragazzo siete testimoni o no? cioè vuoi che sono testimoni i miei genitori cioè prima di diventare prete sono proprio un orso bruno vivo e godo di cose che fanno schifo ai più quando sto lì con un camino a leggere un libro a pregare e tutto e due pesci tutti in una routine che per gli altri ma che noia ma potresti viaggiare il mondo preferisco avere un buon retiro avere una piccola casa che nessuno desidera in cima alle montagne e che la strada devi arrivarci apposta e non c'è più niente e che c'è un silenzio assoluto e qualcuno dice e poi? e poi cosa fai? e poi cosa faccio? prego eh? e poi? e poi cosa devo fare? leggo sì preghi legge e poi e poi basta mangio torno è più che sufficiente preparo i passi è bello ma mi piace così devo farci cioè rispetto alla domanda per uscire a mio avviso dalla stanchezza dalla scontentezza bisogna accontentarsi di Dio cioè capire che veramente il nostro cuore è fatto per Dio e il nostro cuore è fatto per Gesù ha bisogno di un riempimento divino sennò tutto diventerà insoddisfacente in ogni forma di vita e questo è un grande indicatore questa noia questa incapacità di accontentarsi della grandezza se volete metafisica dell'uomo esiste la santa inquietudine e come si inquadra in questo discorso sì è esattamente quello che ho detto cioè che tu a un certo punto devi riconoscere e dire ma porca misera ma io ho tutto non mi manca niente ma perché sono sempre qui ma non è che forse sono fatto per qualcun altro non per qualcos'altro non è che è l'ennesima cosa in più che sia carriera che sia una donna che sia un uomo che sia quello che volete un altro gioiello un altro K adesso tutti i soldi perché K K cos'è mille quanti euro sono K un K sono mille euro quanto cavolo perché devi scrivere un K non puoi scrivere mille euro un K dicimi la K ma vaffa l'uomo va è incredibile io sono uno che per tigna non si accontenta mai mi manca sempre uno per fare due fino a due ore fa pensavo fosse un pregio stupendo chiederò la grazia di potermi accontentare di Dio ma veramente bravo applauso che soddisfazione a me non si capisce allora mi dicevo ho finito la catechesi ho detto secondo me non si è capito niente invece ascolterò più volte questa catechesi perché è un po' difficile per me grazie amico mio andiamo a mangiare una pizza assieme stupendo ma è giusto accontentarsi di chi non ci ama di chi ha cercato di accontentarsi altrove anche se questa persona è il proprio marito ora con tanti problemi di salute non basta che io gli dia il mio amore e vedere che lui gode ecco non mi accontento più ma vabbè vedete ecco allora come affronterei questa domanda se tu resti da un punto di vista puramente umano e che tutto inizia e finisce in questa vita e tutto è qui e Gesù Cristo non esiste e Dio non esiste ma soprattutto non solo Dio non esiste Dio non esiste non c'entra nulla con Gesù Cristo mi verrebbe di dire vabbè hai ragione ma vedi fa anche tu qualcos'altro vai a chiapparti qualcuno c'è Tinder non lo so fai qualcosa direi ma visto che ho ancora ringraziando Dio fino a oggi conservato la fede la fede non in modo generico in Dio ma credo che Dio abbia il volto abbia le caratteristiche intime indicate da Gesù Cristo credo profondamente che il mio cuore è fatto per Dio e quindi non ti dico di accontentarti del godimento non ho mai detto questa invece è avere frainteso le mie parole oppure diciamo così avere un cuore così esacerbato dal dolore di un abbandono di un tradimento da non avere più la disponibilità di ascoltare io quello che invece dico un'altra cosa cioè la ripeto quando Gesù dice anche altre cose amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono in questo caso c'è stato un abbandono qualcuno che non ha mantenuto quella cosa che a quell'impegno profondo che si era preso però Gesù ha detto delle parole sul matrimonio nel corso dei fidanzati sabato prossimo andiamo avanti e vengono fuori quando Gesù ha spiegato l'indissolubilità del matrimonio i discepoli dicono beh se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna è meglio non sposarsi tanto è indissolubile il rapporto per Gesù quindi se Dio non esiste o se Dio è diverso da quello che dice Gesù è un conto ma se Dio è quello che dice Gesù forse le cose sono diverse da chi è scritto da come ha scritto questo biglietto no? come si fa alleggerirsi degli affetti malati dalla dipendenza affettiva spesso nell'altro vediamo Gesù e il rischio è che ci leghiamo troppo a delle persone con una dipendenza affettiva che però non è sana difficile trovare e arrivare l'essenzialità negli effetti io penso che anche qui penso che applicando ecco quello che ho detto prima a questa richiesta a questo confronto ecco questo biglietto che cos'è queste parole dipendenza affettiva e tutto ci sono a volte delle persone delle situazioni che involontariamente cioè non dipende da noi ma ci ingolfano cioè ingolfano la mente i pensieri il cuore usate le immagini che volete voi cioè non riusciamo a non pensarci non pensarci ogni secondo e tutto questo agli esseri umani accade poi potete chiamarlo come volete è un'ossessione cosa altri no non è un'essenzione è l'ossessione più dolce questo è l'amore non lo so sto dicendo che succede accade che a volte alcune persone ti entrano dentro così e tu cerchi di arginare questa specie di invasione che stai subendo e cerchi di essere equilibrato cerchi di tu da solo di darti una una presentabilità una non proprio di non crollare tutto di non dire le cose esattamente come stanno ma io anche rispetto a questa domanda davvero conosco una cosa sola ed è quella che ho proprio condensato in una preghiera quella io con te voglio Gesù tutto in questo caso per lui per lei solo come vuoi tu cioè io voglio tutto per tutti ma in questo caso per questa persona solo come vuoi tu accontentarmi di Gesù cioè con Gesù che mi dice rimanete in me senza di me non potete fare nulla è personalissimo l'invito lui tu hai questa persona e hai Gesù e Gesù ti dice rimani in me senza di me non puoi nulla cioè non puoi amare in un modo equilibrato allora ritorno altro cammeo io mi ricordo sono un ripetitore seriale cioè spero non so perdonatemi siete voi che venite io non vi obbligo non pago nessuno per me la risposta a questa domanda la sintetizzerei con questa immagine fuoco nel fuoco i nostri affetti in certi casi sono fuoco però c'è il fuoco di Dio anzi vi dico di più parlo in positivo io non parlo negativo di dipendenza di cose amore ossessivito cioè io penso che siamo noi quella quella passione per quella persona dice qualcosa di noi dice qualcosa di come siamo fatti e allora andare direttamente da Gesù e mettere in questa fornace questo oro è il fuoco della carità dell'amore di Cristo che lo purifica e lo rende migliore ci fa uscire capace di amare e cioè ancora più semplice è amare come ama Gesù che purifica i nostri amori e visto che ce l'ha chiesto ce lo vuole dare io amando come ama Gesù quella persona purifico il mio modo di amare che è possessivo storto eccetera eccetera cioè in questo caso che cosa sono i cinque panni e i due pesci che cos'è l'ostia in questo caso in questo caso i cinque panni e i due pesci è questo prorompente sentimento che ho nei confronti di questa persona questo sono comunque cinque panni e due pesci e chiedo a Cristo di darmi il suo amore per quella persona dentro come sono fatto io ed è questo fuoco di amore che purifica il mio di amore se no non sai dove sbattere la testa le possibilità sono due o odi per non soffrire o soffri da morire alla fine odi perché non è che ci sono tante altre possibilità toglierti il dolore è come se accettassi di morire però tu accetti se tu vuoi toglierti quel dolore lì da solo muori caro padre Maurizio nello scegliere oggi sono contenta ho riempito la mia misura ma lasciare la via della bellezza di ma lasciare la via della bellezza di don Andrea mi suggerisce di chiederti non vi accavallate con le cose belle e grandi quindi sono stato scelto al posto di don Andrea scherzo sono tante cose poi adesso questo se volete è uno dei vantaggi del fatto che comunque sono cose che si possono recuperare poi molte persone sono già ricche hanno già ricevuto molto secondo me è quello che manca tutti dicono sono importanti queste catechesi ad esempio con alcuni amici loro dicono no sono importantissime queste pericolose continuo a farle vai avanti c'è delle persone hanno bisogno sì è vero hanno bisogno ma c'è una quantità molto grande di questo oggi oggi c'è anche dico solo anche poi non sto valutando di quello che c'è bisogno Gesù ha detto predicate annunciate io sono nel mio sto facendo quello che devo fare e lo continuerò a fare finché il Signore mi darà la forza di farlo non è quello perché fa parte della mia missione però è altrettanto vero che dice più bisogno più bisogno di riflettere di leggere e rileggere di meditare di interiorizzare di stare in silenzio cioè in una parola di spegnere fratelli e sorelle ve lo dico con tutto il cuore spegnete di più ritrovate nel silenzio Gesù e anche ritrovate un po' la vostra testa pensiamo alle cose riflettiamo sulle cose nel senso che non questi passi sono io il primo a dirlo che non sono niente di eccezionale dal punto di vista culturale non bisogna cercare delle cose però hanno dietro c'è qualcuno che si è fermato del tempo a riflettere a pensare a qualche cosa a mettere assieme non il primo discorso ma cercare quello che gli sembra più essenziale sul discorso e questo richiede un po' di tempo e tutti abbiamo bisogno anche di questo di riflettere di pensare di dedicarci al tempo del tempo alle cose buone e il tempo del silenzio e della preghiera di questo cioè voglio dire se uno un giorno poi questi passi diventano dei libri vengono vengono trascritti diventano dei libri uno può anche rileggerseli con Caim oggi il problema è quello che tu rileggi quello che sottolinei quello su cui tu stai un attimino e ci dedichi del tempo e su questo secondo me siamo molto molto fragili e molto mancanti ci si può accontentare della delicatissima scelta della persona da sposare ma si ma puoi sempre accontentarsi dai ma non nel senso che ma non nel senso negativo che tu teoricamente puoi avere tu non finché non questa è una cosa che siamo d'accordo però padre Nicola la spiega molto meglio di me perché lui ce l'ha proprio ben chiara cioè solo la realtà solo realtà di quella persona ti permette di entrare nella nella vastità nella non esiste una per un amare tutti quindi fondamentalmente quando la storia la tua storia ti porta quella persona per me accontentarsi di quella persona non significa non è una cosa delicata è evidente che quella persona lì ed è evidente che sei arrivato a fare quel passo con quella persona lì ed è evidente quindi che Dio stesso te l'ha data e che c'è qualcosa di indissolubile del vostro legale che Dio vuole confermare però è anche evidente che te l'ha data per capire quanto tu abbia bisogno di lui con quella persona per compiere il tuo amore la tua capacità di amare cioè il matrimonio una vera vocazione è sempre un imbuto è una scoperta di quanto sei piccolo di quanto sei fragile di quanto sei nulla senza Gesù sempre un imbuto cioè il matrimonio ti porta a non avere delle grandi illusioni su te stesso e di renderti conto di quanto per fortuna lui abbia detto amatevi come io vi ho amato e quindi che è possibile farlo ma cos'è la pienezza dal punto di vista dell'esperienza potresti spiegarmela meglio perché nella quotidianità tendenzialmente percepisco di più la fatica o se vuoi la pienezza della fatica ecco io penso che l'esempio che ho fatto prima della quotidianità di quella cosiddetta routine che tutti noi abbiamo che se consacrata o non consacrata offerta a Dio o non offerta a Dio è lì la differenza poi le quotidianità sono tutte più o meno simili caro padre Maurizio qual è il limite tra accontentarsi e migliorarsi come lo capisco questo secondo me è venuto è venuto fuori mi sembra di averlo detto in in tanti modi diversi anche perché sono l'eterno indeciso nel mio caso mi riferisco alla decisione di sposarmi con la mia ragazza forse magari la stessa domanda di prima forse non l'amo abbastanza rispondo così con siamo alle sette chiese siamo in un punto particolare delle sette chiese si è già abbastanza cotti si è fatto San Sebastiano tutto un bel rettilineo di preghiera si apre per fortuna un cancello e ci si trova tutti davanti a questo cancello e lì c'è la chiesetta del Quo Vadis e c'è un bivio e tu devi decidere un bivio ti dici se vado da una parte non posso andare dall'altra questa roba qui nella sua semplicità proprio è qualcosa di ripugnante per il mondo moderno no tu devi poter andare contemporaneamente ovunque con chiunque e sempre ed è una gigantesca fesseria fesseria perché non è vero ecco perché San Filippo Neri lì mette la virtù della liberalità cioè della generosità di lasciare qualcosa emette il vizio dell'avarizia di quelli che vogliono ottenere tutto e non è possibile se io prendo una via sto automaticamente rinunciando a un'altra l'illusione di poterle tenerle aperte tutte le posizioni oggi è bella questa cosa è sempre più moderna me le tengo aperte tutte è semplicemente follia perché non è possibile se io decido di passare questa sera la serata ovviamente con i miei genitori sto scegliendo di non passarla con nessun altro loro stando qui oggi hanno deciso di non essere con centinaia di altre persone e con le mie nipotine e con le mie sorelle adesso sono qui la vita è sempre fatta così una vera scelta è sempre implica la rinuncia secondo me tante persone hanno terrore di rinunciare perché sono avare sono illuse del fatto che in fin dei conti si possa avere sempre tutto e sempre e quando lo vuoi ma non è vero ma non è assolutamente vero voi noi qui oggi siamo qui insieme sentite che che valore ha sempre di più questo essere insieme a fare un cammino insieme magari con alcuni da mesi da anni ed è una scelta è una scelta è sempre una rinuncia è essere e tu puoi decidere di essere pienamente contento accontentandoci sia che la tua misura oppure puoi essere qui e dire eh sono qui però però potrei essere là e potrei essere là e cosa mi sto perdendo là e cosa avrei potuto fare di meglio e quindi se poi sei là dici però avrei potuto essere là e sono qui con te però avrei potuto essere ed è fondamentalmente l'illusione guardate non so è difficile che voi mi crediate ma io non ce l'ho con la tecnologia non ce l'ho con la tecnologia è stata semplicemente fatta e potentissimamente fatta per amplificarci il più possibile ma certi elementi limitati siamo noi il nostro hardware è limitato io sono limitato come tempo come spazio e l'illusione di poter essere sempre ovunque e con chiunque è un'illusione è un'illusione si può possiamo raccontarci una buccia se io sono a cena con gli amici sono a cena con gli amici posso essere male a cena con gli amici perché contemporaneamente sono con qualcun altro da qualche altra parte mandando il messaggio ai miei amici che non è che sono così importanti sono qua però ed è sempre così sei qui ma non sei qui sei da qualche altra parte una frase forte che a scuola funziona quando vedo qualcuno ancora purtroppo che li col cellulare gli dico ti prego non abbandonarmi non abbandonarmi resta qui con me non abbandonarmi stai con me stiamo insieme giochiamocela annoiamoci assieme guardami negli occhi sono il tuo professore sono il tuo professore di religione amami ci sono io non c'è nessun altro questa cosa qua ha un effetto perché ha la potenza della realtà di dire ma me tu qua c'è un gruppo di gente che viene molto convinta ci sono i figli trascinati dai genitori vieni devi ascoltare ecco proprio frase di orribile che io fosse un figlio scapperei a gambe levate di fronte a un prete che mi viene presentato ma abbiate pazienza ragazzi non è colpa loro cioè loro ce la mettono tutta però stanno e in questo momento mentre dico questa cosa questa madre che ha fatto una fatica incredibile per portare la figlia dice ma questo infame che cosa sta dicendo mi sta arrivando contro forse ma l'ha detto perché ho detto sta cosa non si sa vabbè come possiamo accontentarci quando magari riceviamo qualche sofferenza dalla vita come fare guardate a questa vorrei rispondere con realismo cioè proprio da padre da fratello chiunque abbia scritto la vita è intrisa di sofferenze inevitabili cioè dovremmo essere maturamente come fratelli padri nel mio caso amici ricordarlo dire guarda che è normale la sofferenza è un ingrediente che fa parte inevitabile della vita l'illusione di una vita senza sofferenza una vita orrenda una vita senza sofferenza lo so che ma questo non vuol dire che allora dobbiamo darcele da soli no no ci pensa la vita a ogni giorno diceva ma chi è che l'aveva detto basta la sua pena non mi ricordo più comunque uno che uno abbastanza famoso aveva detto a ogni giorno basta la sua pena indie ti garantisce che oggi c'è la pena di oggi accontentati della pena di oggi cioè è quella portatela a casa sopportala con con classe con dignità è vero che ci sono invece altri momenti della vita in cui non è la pena la pena quotidiana è molto pesante è molto pesante e allora lì non si riesce più a scherzarne o riderne lì quando la vita è veramente ci sono dei momenti delle prove vale quello che dice la parola di nessuno è tentato di sopra delle sue forze e unito a Gesù tu puoi chiamare proprio in quel momento Dio come Abba papà lo dice nell'orto degli olivi proprio prima della passione e prima di morire Gesù dice padre nelle tue mani anche questo e nelle tue mani consegno il mio spirito quindi con la certezza che è davanti al padre sta andando al padre questo io intimamente voglio perché nella vita di ciascuno si parte in un modo e si finisce peggio ci ammaleremo moriremo moriremo tutti qua c'è un grande numero di morti viventi moriremo tutti lo so che adesso qualcuno è lì che si gratta muorirai lo stesso e ti ricorderai che l'avevi fatto anche se ti sei grattato non è valso perché la morte è una livella e ci livella tutti quanti oggi dire sta roba qua sembra sempre qualcosa di troppo forte ma come di troppo forte è questo ora la vera parola è che non è l'ultima parola e chi l'ha detto Gesù e chi era Gesù è uno che ha esistito veramente storicamente ci sono le prove ci sono le prove ha detto quello che ha detto ha detto quello che ha detto è vero quello che ha detto eh questa è la fede è vero quello che ha detto se non è vero è matto se è vero cioè se è il figlio di Dio è vero e quindi se ha detto a un ladro che ha condotto male la sua vita oggi tu sarai con me in paradiso uguale c'è il paradiso c'è la vita dopo la morte e ciò a me mi interessa e devo continuare ad annunciarlo perché un conto è che dopo la morte non c'è la vita eterna un conto è che dopo la morte c'è come dice Gesù Cristo la vita eterna e questo fa una grande differenza una grandissima differenza e lì saremo giudicati sull'amore hai amato 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 e muori caldissimo d'amore si chiama paradiso sei già pronto sei a temperatura hai detto sì però il forno non è che l'hai acceso tanto allora è il purgatorio devi andare a temperatura d'amore devi avere la temperatura dell'amore di Gesù Cristo se no non è paradiso se andiamo tutti in paradiso tiepidi o come siamo così ma ma che sono anche tutti così uguali paradiso questa eccitazione diretta di padre Rocco ma che paradiso è scusate era il posto era il posto del purgatorio così come siamo boom questo è il paradiso mamma mia speriamo un po' di che ci sia un maquillage che ci sia un po' di allargamento di cuore di vedute di simpatia di 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 ecco andiamo a temperatura dell'amore di Dio però la vita eterna c'è la salvezza c'è bisogna sperarla veramente per tutti io penso che non ho rispettato la clessidra nelle domande come nella catechesi quindi può finire qua allora il prossimo è l'ultimo non ho capito perché ci sono due scuole interpretative esegetiche uno che ha detto il prossimo è l'ultimo oh è così o ha detto no allora questa chi ah non l'ha preso non l'ha preso no no non l'ha preso questo è l'ultimo no l'abbiamo tolto perché non abbiamo messo davanti alla chiesa il prossimo passo è sulla trinità la chiamavano trinità mistero di Dio mistero dell'uomo cioè il concetto è la trinità vabbè ma a me che me cambia se c'è stata trinità cioè che uomo viene fuori se è vero la trinità la chiamavano trinità quindi un passo proprio bello per i bei cattoliconi che possono venire contenti e soddisfatti poi quindi in fondo chiesa ci sono i manifesti di questo incontro poi cosa devo dire poi devo dire la preghiera ah quando è il 20 sabato 23 marzo alle ore 16 in fondo chiesa ci sono i libri dei cinque passi dove sono stati editati ho contato il prossimo passo è l'ottantesimo l'ottantesimo passo e ne sono stati editati 62 e ne sono rimasti solo 18 non editati quindi là troverete buona parte dei 62 passi editati io continuo a insistere come un mulo proprio a motore sul discorso del 5 per 1000 il 5 per 1000 non è una tassa il 5 per 1000 è una scelta tanto comunque se non lo date lo date se non lo state dando a qualcuno e io vi so che qua dentro c'è qualcuno che non lo dà datecelo a noi perché veramente si possono fare delle cose meravigliose e molto belle per i ragazzi veramente concretamente non sono parole con questa scelta del 5 per 1000 adesso c'è questa cosa che si chiama speed tu te lo puoi andare a scegliere a chi dare il 5 per 1000 direttamente comodamente davanti a casa in pochi secondi per favore se lo date a questa piccola associazione che si chiama Oratorium noi lo destineremo solo per cose veramente belle e questo mi sento di metterci il mio faccione altro preghiera vi do la benedizione di Gesù il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Buona serata Buona serata Buona serata